Il tuo poeta fa una decorazione con il cioccolato. Con un sacco di carta si mette triangolare e si fa decorazione. Adesso comincia a sciogliere il cioccolato. Mi scolta l'acqua. Un poeta di Pagno Maria. Un poeta minuto si sciogli tutto. Escolta un momentino che si sciogli. Un momentino si fa la svelta. Due o tre secondi e dice che il cioccolato si sciogli tutto. Con l'acqua è che la ricotta soltà. Basta sgaricare. Tra i due bisogni sono pronti. Il cioccolato è pronto, è decorato. Appena che l'hai sciolto. Guarda come è bello. Guarda come è bello. Guarda come è bello. Il cioccolato è sciolto. Un po' di bambamena. Se ti raccolta una striscia di sé. Poi se fai sé fa solo un sacchetto. Ho trovato un netto. Un pasticeri. Ecco, questo è un sacchetto. Fatto. Questa ciappa. Abbiamo detto il cioccolato. Il cioccolato. Se ti raccolta. Alla stessa era fuori. Sempre che in là. Può sentire sempre un pochino. Ma c'è fuori una specie da batita. Se te l'abbiamo a contà. Tenga via pochina. Faccio le pina. C'è più una bocca. Musica Que la bocca. Perchè col wurde da... SquitFORE Alla stessa. Prendirmo Traccio luci. Così puremmo! La scala delle oscillate... Avuzzammi. Alla stessa. Pochino. Ok